Posso vendere la mia quota ereditata ad un estraneo? Sì, puoi farlo, dopo aver la prima offerta agli altri coeredi per via del diritto di precazione. Secondo la legge, sono preferiti alle stesse condizioni economiche per le quali la stai vendendo. È sempre così in tutti i casi? No. Ad esempio, ricevi insieme ad altri coeredi tre immobili. Una volta assegnati a ciascuno con un atto di visione, il diritto di prelazione scompare. Se hai altre domande, scrivimi nei commenti oppure vieni a mattorare in agenzia. Ciao!